Ciao ragazzi, allora, buon pomeriggio, sono malata, mi vedete truccata solo perché sto provando dei nuovi prodotti che mi sono stati, alcuni mi sono stati regalati, tipo la matita nera che vedete tutta mezza chiara, sbiadita, la sto odiando a morte e niente, sto male, ho l'influenza, sono a casa purtroppo e nel frattempo mi sto un po' dando da fare, ho corretto i compiti in classe dei bimbi, poi sto qui con il computer praticamente perché sto finendo di inviare tutti i materiali per poter prendere il master dovrei avere l'esame, la tesi o a giugno o a luglio, adesso non si sa ancora di preciso, però insomma assomiglia tutto il materiale, sapete come funziona la tesina eccetera eccetera, una grande scocciatura e niente, ho deciso di filmare perché tanto sono a casa da sola, io quasi quasi ci facciamo due chiacchiere, facciamo un vlog casalingo e nulla, oggi ho aperto il mio blog, ho deciso di collegare al mio canale youtube un blog per poter scrivere magari, sapete io faccio molte video review vi parlo di tantissimi prodotti, magari di poter scrivere più per esteso, ma soprattutto perché credo che sia carino magari creare proprio una comunità comunque sia, magari voi potete richiedere la recensione di qualsiasi prodotto, ne parliamo, ne discutiamo in maniera più estesa piuttosto che sul canale perché lì è ovviamente principalmente una cosa visiva, invece in questo modo magari potremmo discutere di qualsiasi cosa l'ho scritto anche sulla presentazione del blog, del blog scusate, sarà un blog di cui parleremo di qualsiasi cosa qualsiasi cosa vi possa venire in mente, dalla casa, la vita, viaggi, ovviamente il make up, il beauty, il lavoro cioè veramente possiamo parlare di quello che vi pare, quindi mi aspetto che iniziate magari a seguirmi anche sul blog e soprattutto a scrivermi tutto quello di cui vorreste parlare e qualsiasi discussione vi venga in mente e niente, adesso però mi sono stancata di fare queste cose davanti al computer e ho fame, quindi andiamo a mangiare qualcosa allora, in tutto questo sto anche aspettando mio fratello che dovrebbe venire a prendersi il regalo del compleanno cioè io devo praticamente aspettarlo per prendere il suo regalo, sì, purtroppo è così allora, prendo le fragole dal frigo, ho qui praticamente il fragole fresche, questo qua è il frullato di banana però frozen, leggermente congelato, ci intingo le fragole, è veramente buonissimo le faccio a pezzettini e le butto dentro e a volte ci metto il scocco e a volte le gocce di cioccolato ecco, il risultato ho togliato le fragole dentro e poi adesso sto bevendo questo nuovo succo trovato sempre all'Aerospin spremuta di 1000% italiane perché non ha lo zucchero è carissimo quindi dicevo, ho deciso di aprire il vlog anche perché adesso con il lavoro la scuola sta per finire quindi sono meno impegnata e quindi mi sono detto dai perché no proviamoci, buttiamoci tra l'altro adesso partirà da questa settimana una nuova rubrica sempre all'interno del canale adesso non so se questo video lo caricherò prima o dopo però, vabbè, quando la vedrete capirete è nulla questo, praticamente, queste sono le novità le novità per quanto riguarda il canale per quanto riguarda me è sempre la solita nel senso che lavoro, esco dal lavoro, sto con mia faccio sempre le stesse cose adesso sta arrivando a bella stagione quindi per fortuna iniziamo a fare le passeggiate possiamo andare al parco gioco in giro presto vi porterò con noi a fare un giretto e nulla, sempre questo adesso finisco velocemente di mangiare poi chiamo mio fratello se per favore si pubblica a venire e nulla adesso? tutto qui quanto riso che sito è? si chiama filmstream.me basta che cosa? chiusi cromo o fifox? cromo? no fifox no, perché si sa sempre a chiusi di cose dov'è stato? è ragazioso sono schermato giusto mia, vieni su si è chiuso, si è vista American Sniper per recuperare un quarto del film bello? si sta venendo a farpa bianca qui sotto ah moretto pure qui io no ti starei come il rosso guarda che cos'è oddio mi sa che ho lasciato il scontino dentro ah non è stato a niente grazie ma non si dice ti fa vedere a lui no? oh grazie hai scelta tu? no ma l'ho comprata io l'ho comprata lui l'ho comprata lui tu madre hai detto che ti sa? ma più lunga è così? più lunga lo levi? no se ti ritira per forza è un decodone tu dove stai dalla pancia? vabbè se non lo scontino non lo sa entra a bustare? no mia riprende la busta non ci sta a scontino tu che cosa ne sai che non ce lo scontino? ma stai a dire attenta non lo stai ma stai a dire va non c'è costruito non c'è questo cioccolatino ma non l'hai mangiato no non li fa a mangiare niente perché sei mangiato un po' del gelato del nonno e poi sei mangiato pure patatine del donno e cosa è del gelato del nonno? io lo so io lo so io lo so hai trovato? tu hai trovato il tempo sga Vittoria no? da cantarmi una canzone di Elsa Ok, ok. Resto qui, non andrò più via. Solo solo sarebbe questo il posto mio. Io scoprirò il mio potere si rinforzi. Il mio potere è cristallizzata a direttina a pensare a me. Queste canzoni, ok. Il mio potere si rinforzerà. Scusami, Mia, mi cantaressi una canzone delle Winx? Ok. La mano, non si rinforzano. Sulla magia. Se vuoi posso dire magia, ok? Tempesta e numeri. Fiamma e dragoli, il settimo sigillo. Vai? Fa. Mi canti la canzone di Belle? Bonjour. Dai. Mia? Stai dormendo? Ma perché non voglio? Mi canti la canzone di Belle e non la riconosco. Se vuoi posso farci vedere? Eh, si vengalati! Mia, per favore mi racconti cosa fai di solito all'asilo? Cosa fai all'asilo? Cosa fai all'asilo? Cosa fai all'asilo? Eh, disegni, gioco con gli amici, giochiamo al pacco. Cosa fai all'asilo? E come sei giovane? A farci l'asilo. Cosa fai all'asilo? Poi mamma glielo appende. Eh, senti, ma mangi all'asilo tu? Si! Cosa ti piace mangiare? Pure? E? Poi? Poi? Poi l'insalata. Ti piace l'insalata? Dile la verità. E poi... Pomodori! Pomodori? Hm? L'asilo asciutto. Com'è, Anna? Cosa impari a fare a danza? Io imparo a fare tipo salto indietro. Ah, mi fai vedere, Uelta? Vai, Nani! Io stavo stavo... Vai con la mano! La, 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 la! Con la mano, mano! Quell'altra mano! Quel piede viene e quell'altra viene! Vai, Nani, tu, Uelta! Brava! Che bella cosa che hai imparato a danza, amore! Senti, diciamo tutti con un bacino, qua! Ui, hai due di scuola! No! Ciao a tutti! E' nulla, mia giornata! Adesso aspettiamo Luca. Intanto devo lessare la cicoria per cena. Ho qui il, hm, il pesto. Domani farò una ricettina con il couscous, il pesto e le verdurine. Ehm, niente, lì sono la cicoria. Ho già le, hm, le bistecche a marinare. Quindi poi è una cosa veloce perché le bistecche mi metto giusto sulla padella. A mia no, però io e Luca le mangiamo al sangue. Ehm, niente, la giornata è finita. Del make-up che indosso, bocciatissima la matita, per il resto ok. E ci vediamo alla prossima. Spero che questo vi sia piaciuto. E' un po' un mix delle mie giornate. E alla prossima, ciao! 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 Ciao!